Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Vabbè ragazzi avete capito questa inquadratura è per quando si fanno unboxing Ma che cos'è questo pacco mamma mia ragazzi Allora andiamo a scoprire cos'è questo pacco Vabbè ragazzi lo faccio a terra Che volete che aggiungo ragazzi SRP tre pedali Cioè e volete sapere le prime impressioni mamma mia ragazzi Allora l'avevo provata al centro di simulazione Simulife di Messina Ciao santo E mi aveva davvero molto impressionato Adesso io ho tolto un po' lo schermo quindi si vede che da questa parte Devo dire che vista così da vicino Da vicino veramente non si Non È impressionante la qualità del materiale pedaliera Che vi dà la sensazione di robustezza La prima cosa che vedo è sicuramente La molteplicità di regolazioni che si possono fare E quindi ragazzi cosa vi devo aggiungere Una SRP Adesso la installo e la proviamo E ci farò un video dedicato Se questo unboxing vi è piaciuto ragazzi Lasciate un pollice in su Lasciate un commento Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo prestissimo Ciao